Un caro saluto a tutti, anche oggi registriamo questo video per continuare ad avere una relazione, sebbene virtuale, alla luce dei nuovi provvedimenti che sono stati emanati e per darvi delle informazioni, quelle più importanti. Dobbiamo continuare a tenere duro, a mantenere la barra dritta sullo stare a casa, a rispettare le norme perché i dati lentamente ci danno un po' ragione, nel senso che questa crescita si sta stabilizzando, anzi diciamo che forse sta diminuendo il numero quotidiano dei contagiati, è ancora presto per cantare vittoria, ma lentamente, progressivamente, nei prossimi giorni potremo valutare se questa stretta nei nostri comportamenti quotidiani sta dando gli effetti desiderati. Ed è necessario continuare questa interlocuzione, ripeto, virtuale, anche perché è stato emanato nei giorni scorsi il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che di fatto non intacca il quadro generale, non è cambiato molto per noi che stiamo a casa, è cambiato per chi ha un'industria, delle attività, nel senso che il provvedimento chiude tutta una serie di attività industriali ad eccezione di quelle contenute nell'allegato al decreto. Trovate tanto il decreto quanto l'allegato nel nostro sito internet del Comune. Ovviamente, se volete dichiaramenti, chiamate il vostro datore di lavoro. Nulla cambia per quanto riguarda il commercio, vige il decreto precedente per cui rimarranno aperte le farmacie, le parafarmacie, i supermercati e quelle attività definite di primaria importanza il cui è incontrovate sempre nel sito del Comune. Fermo restando che dobbiamo tutti quanti impegnarci a muoverci il meno possibile. Continuano a lavorare anche gli artigiani e qui devo ribadire il concetto espresso qualche giorno fa. Per quanto sia consapevole di rivolgermi nella categoria che in questo momento sta soffrendo moltissimo, perché l'artigiano, la partita IVA in questo momento non porta a casa lo stipendo, non riesce a fare i lavori, è necessario chiamare un artigiano esclusivamente se il lavoro che deve svolgere è urgentissimo e improcrastinabile. Dipingere casa non è un lavoro che si deve fare necessariamente adesso e si può rimandare quando questa emergenza sarà finita. Lo dico perché è pericolosissimo, è uno dei veicoli principi di trasmissione del virus entrare in casa di qualcuno di cui non conosciamo le abitudini e le frequentazioni pregresse e conseguentemente non possiamo sapere se potenzialmente è portatore del virus. Significa mettere a repentaglio la nostra salute e quella ovviamente delle famiglie in cui entriamo. conseguentemente massima prudenza e massima responsabilità nel chiamare un artigiano e sia anche l'artigiano a valutare ed eventualmente dire no dinanzi alle richieste di lavoro che non sono necessarie, che non sono urgenti, che sono rinviabili. Per quanto riguarda i nostri cantieri francamente la difficoltà che abbiamo in questi giorni è quella di orientarci tra il fastellarsi, l'avere sempre nuovi decreti che arrivano uno dopo l'altro e che si accavallano con le circolari e con le domande frequenti. Anche noi facciamo fatica ogni tanto a trovare il bandolo della matassa. Sulla prosecuzione o meno in questo momento dei cantieri stiamo cercando di chiedere chiaramente un po' a tutti, dalla prefettura a vedere il ministero piuttosto che l'associazione dei comuni perché le idee non sono chiare. Se dovessimo fermarli è chiaro che ci sarà un ritardo nei cantieri e questo sarebbe un problema per noi ma insomma cercheremo poi di recuperare, ci metteremo pancia a terra, non abbiamo mai smesso di incontrarci, di sentirci come assessori e come uffici e se dovessimo bloccare i cantieri cercheremo di ripianificarli e riprogrammarli per chiudere il prima possibile. Se al contrario i cantieri devono continuare perché fanno parte di quell'elenco appunto non chiarissimo emanato dal ministero, li continueremo cercando, non cercando, obbligandoci in maniera seria a rispettare tutte le norme di sicurezza e prevenzione per chi eventualmente ci debba lavorare. Ma su questo punto saremo più chiari domani, oggi francamente stiamo attendendo delle risposte. Vi do la notizia che la pulizia, la lavatura, chiamavano così, delle strade perché non vogliamo creare allarme né per i proprietari di animali né ovviamente per gli uomini e neanche per la natura, il lavaggio della strada verrà effettuato in due tranche, una martedì sera e una venerdì sera con cinque mezzi messi a disposizione dalla Confederazione Italiana Agricoltori. È un modo, come dire, per tranquillizzare gli animi, per dire che anche un'operazione non strettamente indispensabile verrà fatta. Oggi abbiamo ricevuto altre 2.000 mascherine non monouso, di quelle che si possono tenere un po' di più, almeno una giornata, da parte della comunità cinese. Rinnovo il mio sentito ringraziamento agli UE e ai suoi colleghi a questa comunità cinese di Pordenone che ha dimostrato una vicinanza e una solidarietà non comuni. Queste mascherine verranno consegnate al coordinamento della protezione civile che deciderà come distribuirle. Come dico sempre, la priorità non è quella di darla ai cittadini che devono stare a casa e rispettare le regole di distanza, ma è quella di darla a chi per il suo lavoro purtroppo è più a rischio. Operatori delle case di riposo, operatori sanitari, forze dell'ordine, vigili del fuoco, polizia locale, volontari di protezione civile della Croce Rossa. C'è una grande necessità di mascherine, c'è una grande penuria però di mascherine e conseguentemente dobbiamo guardare con rispetto e con criteri di priorità a chi appunto svolge un lavoro in questo momento potenzialmente pericoloso. Voglio darvi un'altra comunicazione. Ci sono pervenute delle segnalazioni da parte delle agenzie di assicurazione che devono tenere aperte in questo momento che persone si rivolgono a loro perché hanno la polizia in scadenza. Attenzione che il provvedimento governativo ha allungato i termini di proroga dalle polizie non più di 15 giorni ma di 30 giorni e si può pagare anche con bonifico. Conseguentemente invece che prendere la macchina o uscire di casa per pagare l'assicurazione telefonate all'agenzia e vedete se potete magari farlo comodamente da casa attraverso l'home banking. Si possono fare ancora le consegne a domicilio della spesa e di cibo, di alimentari e mi raccomando, questo si può fare anche la domenica quando i supermercati sono chiusi, quando tutti i negozi sono chiusi, mi raccomando in questo caso di rispettare, di osservare scrupolosamente le norme di sicurezza che devono essere rispettate e stare in capo tanto a coloro i quali girano portando la spesa o il cibo a caso quanto da chi li riceve. È fondamentale, evitiamo i contatti impropri. Qualcuno mi ha chiesto, è una domanda intelligente, se l'obbligo di fare la spesa nel supermercato del proprio comune e non un altro comune vale anche se il supermercato più vicino è quello di un comune di Mitrofo. Il Ministero ha mandato un chiarimento, si può fare la spesa in un supermercato di un comune vicino se questo ovviamente è più vicino rispetto ad un altro. Faccio un esempio, se uno abita al confine del comune di Cordenone e ha un negozio a 50 metri mentre il supermercato di Cordenone è a un chilometro può andare a Cordenone a fare la spesa. Mi raccomando di portare sempre l'autodichiarazione. E poi voglio chiedere un'altra cosa, tantissime richieste e domande sono arrivate al comune per quanto riguarda l'attività all'aria aperta. Qui c'è stato un decreto del Ministro della Salute il quale consente di poter fare attività all'aria aperta nelle prospicienze di casa, ma questo non vale per noi perché in Friuli Venezia Giulia vale ordinanza emanata dal Presidente della Regione che è particolarmente stringente. E cosa dice? Dice che in tutte le proprietà pubbliche, quindi sulla pubblica strada, nei giardini pubblici, nelle aree verdi, nei parchi, dovunque, nei corsi, nelle strade, non si può fare alcun tipo di attività, né fisica, né ginnica, né passeggiare, né camminare, bisogna stare a casa. Diverso è l'atteggiamento che possiamo tenere nelle proprietà private, ma attenzione, una cosa se uno ha la fortuna di avere una casa con il giardino, a quel punto può fare quello che ritiene più opportuno. Se invece siamo in un condominio e abbiamo un'area verde condominiale, la risposta data al quesito che è stato presentato dai comuni dalla Regione è che si può utilizzare l'area verde condominiale ma purché ci sia una sola persona, quindi non ci siano altre persone, sostanzialmente bisogna usare un po' la testa. Ecco, questo è il concetto. Si può portare il cane a fare una passeggiata, si può portare il cane a fare una passeggiata, anche qui è arrivata la risposta alle domande frequenti della Regione, purché sia una passeggiata breve, funzionale esclusivamente a far fare i bisogni al cane, dotandosi ovviamente di guanti e sacchetto e poi bisogna ritornare a casa. E questa passeggiata deve essere fatta nelle immediate vicinanze di casa, quindi non si carica il cane per portarlo a sgambare, ma si scende dal condominio o da casa, si esce pochi minuti, si fanno i bisogni, si rientra a casa. Chi può invece fare una passeggiata? La può fare la persona che per motivi di salute, quindi gli sia stato prescritto di fare una attività fisica finalizzata al recupero o quantomeno a contrastare una malattia. Oppure può valere per quelle persone che hanno deficit di carattere cognitivo, per cui la costruzione obbligatoria in casa può peggiorare la loro condizione di salute. Allora cosa bisogna fare? L'autodichiarazione, anche quando si gira a piedi bisogna avere l'autodichiarazione e allegare un certificato, un qualcosa da cui le forze dell'ordine possono desumere lo stato di necessità di salute per la quale la persona sta passeggiando. Attenzione perché altrimenti si rischiano delle multe. Anche noi stiamo valutando quali strumenti mettere in campo quando questa emergenza sarà finita. Stiamo valutando intanto cosa dovremmo fare, alla luce di un bilancio che sarà stravolto, sicuramente le entrate saranno di meno. Questo è stato un autentico terremoto anche economico e finanziario. E stiamo vedendo a quali risorse poter rinunciare per poterle accantonare a favore di imprese e famiglie. È chiaro che un comune, anzi i comuni che hanno dei bilanci davvero tirati all'osso, striminziti, dove le disponibilità sono sempre meno, dovremmo far conto soprattutto sulla disponibilità dell'Europa, dello Stato e del Governo regionale. Ma anche noi vogliamo dimostrare di essere vicini ai nostri concittadini. Vogliamo dare una risposta concreta, essere al fianco dei pordenonesi. E quindi valuteremo, anzi stiamo già valutando, facendo le proiezioni per capire quanto sarà e come si svilupperà questo pacchetto che dovrà andare incontro magari alle famiglie che hanno pagato le rette degli asili non comunali, quelli comunali non si sono già pagati, alle rette degli asili pur non potendo offrire del servizio, alle attività commerciali e alle imprese che hanno subito dei contraccolpi durissimi da questa emergenza. Ma ovviamente saremo più chiari nell'immediato futuro. Nel frattempo consiglio ancora, anzi con forza, lo dico col cuore in mano, di rispettare la regola di prevenzione e di sicurezza. Teniamo duro, stiamo a casa, vedrete che ce la faremo. In bocca al lupo a tutti, un abbraccio virtuale alla distanza di un metro.